bella a tutti ragazzi io sono valerio io sono francesco e oggi siamo in un altro quiz è come quello avevamo fatto un po di tempo fa da un'immagine dovremmo andare a scrivere il nome dell'anime l'altra volta ne avevamo fatti 27 se non mi ricordo male si è una cosa del genere vediamo ora quanti andiamo a fare questi sono un pochettino più difficiletti però quindi ne faremo quattro ci stiamo provando le quiz allora questo lo conosco si chiama non lo so aspetta questo ah questo qua assomiglia a un pervertito ha un pervertito quindi andiamo questo è il mob sego c'è il mob sego sego no così sego vuole voler 100 si e vuole voler 100 per contata per contata ok non ne ho idea toccare urlano bucket dovrebbe essere allo slum dump e che non trovo missitive slam 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 Dom Slam Non c'era nè Vabbè, poi vediamo Comunque lo facciamo Vedi, 7 Deadly Seans No, sins Ok Vabbè Questa è un'immagine Ok E questo è lo spawn del mio desktop Quindi Non lo so come si ha Fate Qua vuole solo Fate Questa è Assassination Classroom Assassination Classroom Che assomiglia molto alla classe di Kill la Kill Che io ho visto nel primo episodio Speriamo che ci sia Assassination Grazie Come dovrei capire un anime da una Magari è protagonista Magari Re zero Zero Grandiii Russia Allora, credo che sia Ragazzi Mizzuno Sarà qualcosa di quale Volo A me sa molto tipo di nuoto Molto gay La situazione Qua di nuoto si chiama Fleer Le Qualche cosa del genere Perché l'ho visto, l'ho sentito Free? Forse No, non è free E qualcosa del genere Si Si E ci ho provato Cowboy Bebop Cowboy Bebop Cowboy Bebop Ne grande Bravo Ma allora Aspetta Ma allora ecco quello che c'era l'altra volta Adesso cambiamo le immagini No No Però c'era No C'era Mob Psycho Center Non c'era Ragazzi Probabilmente è molto simile all'altro Però Vabbè Vediamo se abbiamo Per esempio Se miglioriamo Infatti Perchè Per esempio Mob Psycho Center Non c'era nello scorso Però Andiamo Dive E E E Quell'anime gay Vabbè Questo non so Perchè ce l'ho Altre anime gay Altre anime gay Tutti maschi sono Non Non riesco a capire nemmeno lo stile di disegno Cioè non l'ho mai visto Quindi Ok E Death Parade Death Parade Ok Ok E Made in Abyss E Made in Abyss Qua l'ho comprato Devo dire che è bellissimo Comunque E Un po' simile a un po' di resto Che tipo quello non c'era L'altro Sulla One Piece E Ragazzi Non lo so chi è arrivato a questo punto del video Un punch Vorrei Dirvi Che Io ho preso The Promised Neverland E lui ha preso Made in Abyss Quindi Dovremmo far uscire delle recensioni qualche giorno Qualche volta Però Mi sa che quando abbiamo fatto questo video Già sono uscita Bu Non lo so Comunque Circa Però sappiate che ce l'abbiamo Se non sono uscite usciranno Usciranno Qua E High School E qualche cosa Ma No ma Non te lo prendere Vabbè con l'acqua E Mervoso Naruto 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 Fairy Tail Fairy Tail Grandioso Tokyo 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 Goal Goal Aspetta L'ho vista da qualche parte Vabbè ricordo Però Non mi ricordo mai E Gorin Lagan Ragazzi me lo sono iniziato a vedere E' figo Però prima te lo continuerò Eh Mai Hiro Ok No Boku no Hiro Boku no Hiro Boku no Hiro Boku no Hiro Ok Bello Cosa Ok Lo potremmo fare Aiki No aspetta No no Vabbè ragazzi La trentena è buggata Non lo sappiamo Sì Sì Sono piccole Perché Code Geass Code Geass Code Geass Beh ho scritto gode Certo Code Geass Quanto è puntiglioso Questo ha un nome lunghissimo Non lo ricordo E questo Hunter Anche questo Lo sono iniziato a vedere E' molto però Bene Lo continuerò Ehm Questo qua è Dovrebbe essere lo scienziato Nel tempo Eh Mi ricordo È che non Mi ricordo per niente Ho visto una recensione di uno Ma non mi ricordo così Eh anche io Ragazzi comunque Probabilmente li sentite Ci sono degli uccellini fuori E' primavera Vintamo Vintamo potrebbe essere Dama Ehm Full Metal Alchemist Ehm Full Metal Alchemist Brother Sì Aspetta Bro, aspetta Bro Aspetta Bro Aspetta ma è finito no che cosa sei tu no aspetta dobbiamo andare con la scena non manca a pensarci su qua è Slam Dunk o che cosa del genere per sé dove ci ha Che cosa è? Che cosa è il cielo? Che cosa è il cielo? Ahahah 0 0 0 0 No Questo No No. Non ho chiuso Non ho chiuso Non ho chiuso Questo è 0 Questo non mi ricordo se vuoi è full metal alchemist full metal alchemist è alchemist scrivi alchemist no, è alchemist e poi no, non mi ricordo no, non mi ricordo bra ma è così che si scrive basta, basta, testi finito comunque mi pare l'altro oltre noi 50 infatti iwap another erasen va bene usati il drop vabbè anohana anohana forse mi ha scritto kuroro dice kuroko non basket questo quale vuole precise le cose no, no, ce l'avamo erano sul pezzo, dai poi mi interessa non sopra come si chiama yuri on ice addirittura ok non c'è un giorno mai super lovers ma no, tutti gay ballroom e il mio coso no pure una gay schoolhouse vabbè mirai nicchi mirai nicchi ecco e che vabbè non lo avete ricordato comunque no ah mi vedi io vabbè ho sentito ma alla fine se c'è l'immagine non l'avremmo infatti non l'avremmo infatti non l'avremmo infatti niente stangate baron gate full metal ac m ma c'è l'acca brotherhood hood ma perchè clanad e another va bene ragazzi diciamo questo video è stato molto prolisso però per dire pensavo io peggio ecco sì ma spesso il 58% quando adesso veramente sotto non ci dovrebbero essere infatti sì noi abbiamo fatto il 23% siamo nel 10% su sempre 2 miliardi ma quindi comunque penso che siano in generale tutti i quiz che hanno fatto ma invece infatti la scorsa volta noi eravamo tipo qui ed era 16% quindi sì è nato perchè mi pare erano i 50 lì eh infatti erano i 50 ma in generale ragazzi è diverso però alla fine gli anime sono sempre quelli ma alla fine non sappiamo scriveteci scriveteci veramente di che anime li volete i quiz anche se non li conosciamo magari ci informeremo e faremo un quiz magari lo vedremo e comunque facciamo i quiz così almeno li facciamo specifici come avete visto l'abbiamo fatto su Death Note su One Piece su Dragon Ball per questo video è tutto fateci sapere invece anche voi che il punteggio avreste fatto e quanti ne conoscete e niente noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao